Per fare un tavolo Ci vuole legno Per fare legno Ci vuole l'albero Nessuno ha detto che per forza funziona così Ho deciso di stravolgere il mio TED ieri Mentre ero in volo appunto da New York Così E mentre ero in volo pensavo ai miei amici Alla mia rete Le persone con cui scambio costantemente fiducia Valore, conoscenza E mentre pensavo a tutti i miei amici Ho pensato a mia madre Al suo sguardo Il primo rapporto umano è stato con mia madre Il primo rapporto di fiducia è stato con mia madre In quello sguardo Nei primi sei mesi ognuno di noi Ogni bambino ha una ricca interazione Con la madre Di sguardi, di dialogo Quella ricca interazione lo porterà a creare I modelli relazionali che lo accompagneranno Per tutta la vita Fiducia, fiducia, fiducia Tra madre e figlio Tra figlio e comunità Tra figlio e il mondo Umberto Calimberti scrive Se pretendo di imparare a nuotare Prima di entrare nel mare Non imparerò mai a nuotare Ho scoperto un esempio fantastico di fiducia Grazie alla comunità degli italiani di frontiera E parlo di Amedeo Giannini Banchiere del 1900 Fondatore di Bank of Italy Che poi è diventata Bank of America Italiano di origine Amedeo Giannini nel 1906 Riaprì per primo la banca Tutti i banchieri a San Francisco Dopo il terribile terremoto del 1906 Volevano riaprire dopo mesi e mesi A novembre Lui disse Non possiamo aspettare a novembre A novembre avremo una città deserta Bisogna aprire ora Scese in strada Riuscì a recuperare un sacco di due milioni di monete d'oro Dal suo cavo Mise su un banchetto di legno E inizia ad erogare prestiti a tutti Tutti anche quelli senza garanzia Per lui la fiducia era Guardare un uomo negli occhi Oggi la scuola ci Ci propone spesso percorsi rigidi Percorsi lunghi Percorsi che ci invecchiano Percorsi che arrivano a metà percorso Vorremmo cambiare Siamo ingabbiati nel continuare Percorsi che ci rendono ubbidienti Nel 1400 le nostre botteghe Quelle degli artisti Dei pittori Ospitavano talenti Che ogni giorno si concentravano A fare qualcosa di nuovo Ogni giorno sperimentavano Qualcosa Accumulavano nuova conoscenza E si sporgevano oltre Sempre cose nuove Sempre cose che non avevano mai fatto prima Gli veniva data fiducia Per fare una cosa che non avevano mai fatta prima E andavano avanti grazie a questa fiducia Grazie a questo rischio Probabilmente Dobbiamo tornare Ad essere agili Come in quelle botteghe Tornare ad essere agili Ad innamorarci in modo agile Ad orientarci in modo agile Ad imparare in modo agile Fiducia e rischio Sono due modi rivoluzionari Per approcciare le soluzioni Approcciare i problemi Direbbero in tecnologia E' qualcosa di distraptive La fiducia è qualcosa di distraptive E' qualcosa di necessario Il rischio che Conviene correre David Clementoni mi ha Insegnato una frase che è Salta E vedrai apparire la rete La mia fortuna è oggi Che ogni volta che sono saltato Mi sono trovato una rete Una rete di persone Che mi dava fiducia Ad andare avanti A sporgermi di più A rischiare Quando avevo 12 anni Sviluppavo siti web E pensavo di sviluppare siti web Per tutta la vita Impari a fare qualcosa Dici wow So fare qualcosa Posso mettere a disposizione La farò per tutta la vita Poi un giorno Arriva mio fratello E dice Jacopo c'è un software Complicatissimo di montaggio Tu sei uno smartone Vedi se lo riesci a usare Non riuscivo ad usarlo Era davvero troppo complicato Però conosco Dei maestri di montaggio Non potevo permettermi Le loro lezioni Diventiamo amici Scambiamo conoscenza Scambiamo consigli Di continuo E penso di voler fare Il montatore Per tutta la vita Inizio ad appassionarmi Alle riprese Ovviamente penso di fare Alle riprese Per tutta la vita Ogni volta che scopro qualcosa Grazie alla cosa precedente Penso di farlo per sempre Mi appassiono al marketing E penso di fare Il consulente di marketing Per tutta la vita Capisco che bisogna avere Una visione a 360 gradi Delle cose E penso di fare Il digital life coach Per tutta la vita Quando Ho creato il digital life coach Ho detto Questo penso di farlo Per tutta la vita Ma sono consapevole Che mi porta da qualche parte Che mi porterà Da altre Da altre parti Sarà per forza così E non vedo l'ora Di conoscere Dove mi porterà Il digital life coach Spesso mi chiedo Quale sarà Il rapporto Tra uomo E macchina Penso che alle macchine Vada data La storia Tutto quello che abbiamo scoperto La nostra conoscenza Le nostre statistiche E dobbiamo tenere per noi Il buon senso Le emozioni La capacità di rischiare La fiducia Così possiamo dare origine A nuove cose Sempre nuove cose Origine Alle macchine La storia All'uomo Il futuro Prendiamoci Tre secondi Per pensare Cosa ci spinge Ad incontrare Nuove persone Grazie Più 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 Buـ Più Più τε